Perseguitava l'ex fidanzata con continue richieste, non di tornare insieme, ma di denaro. Voleva 1.300 euro per lasciarla in pace e ha continuato a vessarla fino a quando lei non ha chiesto l'intervento dei carabinieri. È finito in manette con l'accusa di stalking un 23enne residente a Ponte San Pietro. I militari dell'arma hanno arrestato il giovane di nazionalità macedone regolare in Italia, mentre cercava di estorcere per l'ennesima volta soldi alla donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. La vicenda andava avanti dal mese di luglio, quando, al termine della loro storia, l'uomo, con ripetuti messaggi e telefonate dal contenuto intimidatorio, aveva chiesto alla giovane di consegnargli oltre 800 euro per essere libera di frequentare altri uomini. Esasperata dall'ulteriore richiesta di 500 euro, ha dato appuntamento al suo persecutore in un parcheggio pubblico. Lì, però, non si è presentata sola, ma accompagnata dai carabinieri di Ponte San Pietro, pronti ad intervenire. I militari hanno immediatamente bloccato l'uomo. Lunedì mattina il GIP del Tribunale di Bergamo ha convalidato l'arresto e il giovane si trova al momento in carcere a disposizione del magistrato.